Un caro saluto a tutti gli amici di Pro Cultura Monzese, questa settimana vi proponiamo una commedia, Tutto può accadere a Broadway di Peter Bogdanovich, disponibile gratuitamente sulla piattaforma raiplay.it. Non è una commedia qualsiasi perché il suo regista, oggi ottantenne, è stato e rimane uno dei più interessanti autori americani dagli anni settanta a questa parte. Certo non fortunato come alcuni colleghi ecoetanei di maggiore successo, ma unico nell'esprimere attraverso una poetica della nostalgia la sua incondizionata ammirazione per il cinema degli anni d'oro, indagata con assoluta passione anche nelle vesti di critico. Ci sono riflessi di molti classici del passato, oltre che le atmosfere che il grande pubblico ha imparato a riconoscere nei film di Woody Allen, anche in questa gioiosa e provocatoria screwball comedy fatta di incontri, coincidenze e incessanti equivoci, con una galleria di personaggi irresistibili che gravitano intorno al mondo del teatro e come il teatro e lo stesso cinema vogliono da sempre, nutrono la loro vita di sogni, aspirazioni e desideri, pur inciampando nelle beffe del caso che non sembra dar loro pace. Il film non solo regala un'ora e mezza di divertimento autentico e intelligente, ma con la sua costruzione in forma di flashback ci ricorda come la memoria della nostra vita sia una finzione attraverso cui diamo un senso a ciò che ci accade e che scegliamo, trasformando gli eventi quotidiani in occasioni in cui riscattare la nostra immagine e abitare anche solo per un momento il sogno di essere stati sempre e incondizionatamente liberi. Buona visione.